E rieccomi, ciao a tutti ragazzi, vi ritorno da tre settimane che definire folli è poco, vi dico la sincera verità. Ancora non mi sono ripreso pienamente, però vengo da tre settimane praticamente con la cervicale continua, la cervicale a me come si manifesta? Magari si manifestasse con il dolore, purtroppo oltre quello si aggiungono le vertigini dove praticamente io non appena alzo o abbasso la testa oppure la giro verso destra o verso sinistra comincio a avere proprio vertigini che mi costringono quasi a cascar per terra, quindi spesso quando sto nelle fasi acute devo stare a letto immobile e questo è stato forse l'attacco più grande che ho avuto, più forte perché è durato proprio ininterrottamente, provavo ad alzarmi e dopo un'oretta, due ore ero costretto a rimettermi a letto perché avevo queste vertigini maledette. Intanto tolgo subito il dubbio a qualcuno, questo non è un giacone del logo del Paris Saint Germain ma è un logo molto simile della della PGS Santa Maria Mater del Redentore dove ho allenato per un paio d'anni, una squadra di calcetto, ho allenato per un paio d'anni così subito perché lo so che vedo che arriva all'occhio sto logo e quindi niente oggi dopo tre settimane mi sono fatto coraggio, sono rimontato in macchina, sono venuto qua, nemmeno vi dico dove perché ormai lo sapete e oltre a fare qualche lavoretto perché stare con le mani in mano non c'è so stare, ho visto l'ora, ho detto oh sole 4, fermate un attimo, vada a vedere un tramonto perché tu quando stai qua a lavorare al mare non lo vedi mai, mai, mai e quindi voglio condividere con questa mia da cavolo, guardate che bello, sono i momenti più belli di questo sabato e insomma guardate che meraviglia, il sole tramonta là dietro, dietro la maga, tra un po' sarà buio, il cielo sembra non promettere bene ma in realtà non credo che piova oggi, quando il cielo è così non credo che piova. Eccomi qua ragazzi, a prendere un po' d'aria, a staccare un po' soprattutto perché ho una voglia matta di tornare alla normalità, dopo tre settimane che non lavoro ho voglia proprio di tornare alla normalità, ad alzarsi presto, andare a lavorare, tornare a casa, la quotidianità che è una cosa che manca terribilmente, queste tre settimane mi sono davvero appiattito ragazzi, appiattito, per non parlare delle medicine che ho preso ininterrottamente tra protettori, tra gastro protettori, medicine per cercare di ridurre la vertigine, ma la vertigine ti portava la nausea, quindi chiaramente qualcosa per la nausea, insomma un macello, ho lo stomaco a pezzi per quante sono le medicine che ho preso, però insomma si va avanti, piano piano si ritrova alla normalità, si ritorna alla normalità, siamo praticamente a dicembre ragazzi miei, e siamo arrivati quasi a Natale, mi sembra ieri quando passeggiavo qui su sta spiaggia che era quasi, che era settembre, che stava per finire l'estate, e invece eccoci qua, a dicembre, oggi è pure una giornata molto particolare, è la festa della mia nonnina, nonna Anna che non c'è più, una donna che per me è stata fondamentale nella mia vita, oltre che per l'educazione, proprio per i valori e proprio perché tra me e lei ragazzi c'era un rapporto incredibile, gli volevo e gli voglio un bene dell'anima alla mia adorata nonnina, e domani sarà una giornata altrettanto tosta, perché domani è il compleanno di mio papà, sarebbe stato il compleanno di papà, ma io parlo sempre al presente, è il compleanno di mio padre, e quindi papà domani, anche se a distanza comunque, festeggeremo il Natale, festa, poi a raffica proprio il compleanno, cioè quello di mia moglie che appunto è passato, che era ieri, poi ci sta quello di mia nonna oggi e quello di mio padre domani, chiaramente passi dalla gioia per comprarne tua moglie, poi vai e ti rattristi perché c'è il compleanno di tua nonna che non c'è più, il giorno dopo stai peggio perché è il compleanno del tuo papà che non c'è più, e poi arrivano le feste, io che so pure un po' intollerante al Natale, lo sono sempre stato, già ve l'ho raccontato in altri video, non è che so uno che ama particolarmente le feste, amo lo stare insieme, quindi cerco di dare quel significato al Natale, ma non deve essere Natale per stare insieme, parlamoci chiaro, se fosse insieme anche altre volte, e quindi niente, ci tenevo a salutarvi, darvi il ben ritrovati, è tutto qua, ciao a tutti ragazzi, un abbraccio